Siamo alle fasi conclusive del restauro del freggio di Angelo Zanelli all'altare della Patria. I restauratori stanno terminando le stuccature lungo le giunzioni tra i blocchi e le ultime puliture, come ad esempio quella della piccola statua della Vittoria Alata. La statua è in lamina d'argento. La pulitura è a tampone con solventi per rimuovere le varie cere protettive applicate in passato. Si prosegue con impacchi di sali solubili, in modo da rimuovere gli ossidi depositati per far risplendere di nuovo la lamina d'argento. Grazie a tutti.